Anche quest'anno in occasione di Olio Oliva, la festa dell'olio nuovo in programma Imperia da venerdì a domenica, si rinnova l'amicizia con Peccati di Gola, la rassegna di prodotti tipici di Mondovì gemellata con l'evento imperiese, ormai da tre anni. A seguito della sigla del gemellaggio a novembre 2013 tra Olio Oliva e Peccati di Gola sotto il brand Le Alpi del Mare, Eurocingeie, Promimperie e Comune di Mondovì hanno messo in atto infatti una collaborazione volta alla promozione dei prodotti tipici delle province di Imperia e Cuneo. Una cooperazione che si rinnova ora in occasione di Olio Oliva. Nel corso della rassegna infatti il Piemonte sarà presente con lo stand di Peccati di Gola con il sostegno di Eurocingeie, l'organismo di cooperazione trasfrontaliera presieduto da Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di Commercio di Cuneo e forte sostenitore dell'unione dei territori delle Alpi del Mare che uniscono le province di Imperia e Cuneo con la vicina Nizza.